L'informazione di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. Con la festa del Immacolata partono dunque le festività natalizie in tanti questa mattina alla solenne celebrazione dell'omonima parrocchia del centro storico di Corotone. Occhiuto spinge ancora sulle vaccinazioni, sui pochi vaccinati. In provincia di Reggio il governatore valuta l'istruzione delle zone rosse a San Luca e Platì. Dai domiciliari ha inviato una lettera al ministro Garfagna chiedendo aiuto. Non lo poteva fare. L'avvocato Giancarlo Bitelli ritorna in carcere. L'educazione alla legalità inizia dai banchi e da scuola. La lezione del procuratore della Repubblica Giuseppe Capoccia e i studenti gioclassico Pitagora. Natale 2021. Tante le iniziative per riscaldare il clima a Fuscaldo partono diverse attività nel segno delle bontà locali. 8 di dicembre, mercoledì, ben trovati sul 18 per l'informazione di Esperia TV. 8 dicembre, oggi la festa dell'Immacolata. Partiamo da qui e partiamo così. Con il primo servizio andiamo nella parrocchia del centro storico di Corotone. Con la festa dell'Immacolata, a pieno titolo, si sancisce l'inizio delle festività natalizie. Il dogma dell'Immacolata Concezione è stato sancito dalla Chiesa Cattolica durante il pontificato di Pio IX e, a differenza di quanto spesso si ritiene, non ha a che vedere con il dogma della verginità di Maria. Immacolata Concezione significa infatti concepimento senza peccato originale. Maria è stata concepita, a differenza degli altri uomini, senza peccato originale. Era dunque senza peccato fin da prima della sua nascita. Santa Messa a Crotone nell'omonima parrocchia, celebrata da Don Serafino Parise, che dice L'Immacolata è una festa, diciamo, che dà la possibilità a noi credenti di fare una riflessione innanzitutto sulla volontà di Dio, che è sempre una volontà di bene per tutti. E fatto sta che nella prima lettura di oggi, tratta dal Libro della Genesi, si parla proprio della creaturalità, cioè del fatto che il Signore, avendo creato dall'eccesso del suo bene, del suo amore l'uomo, non si è sentito poi di abbandonarlo, quando l'uomo, in un certo senso, ha pensato di allontanarsi da Dio. Quindi il primo messaggio è sul recupero di questo rapporto con il Signore, in questo tempo, all'interno del quale noi assistiamo ad una, come dire, rivendicazione da parte dell'uomo di una autonomia da Dio, quasi una autoreferenzialità. E invece il primo messaggio, proprio legato a noi creature, è di fidarci del Signore, cioè legarci a Lui perché il suo piano è un piano di salvezza eterno per noi. Dentro questo piano di salvezza eterno si inserisce proprio la scelta di Dio, dall'inizio, di preservare una creatura perché potesse dare al mondo il Salvatore, Gesù Cristo, cioè per dare la possibilità, diciamo, che la salvezza avvenisse attraverso un uomo nato come noi, dentro la carne umana. Covid e vaccinazioni, nelle ultime due settimane crescono ancora i pazienti no-vax in terapia intensiva, pensate, con un più 32%, mentre continuano a diminuire quelli vaccinati, meno 33%. Questi sono i dati forniti questa mattina dall'arrivazione della Federazione Italiana, aziende sanitarie e ospedaliere. Intanto in Calabria il problema non è tanto il numero dei contagi che sta crescendo e certamente ci preoccupa, ma l'effetto di questo aumento sulla rete ospedaliera. Se la nostra regione, da lunedì, com'è probabile, andrà in zona gialla, ci andrà non per i contagi ma per i pochi posti in terapia intensiva. Lo dice Roberto Chiuto, governatore della Calabria. Io, da neocommissario alla Sanità, in poche settimane ho incrementato il numero di posti in terapia intensiva di una ventina di unità. Ho parlato intanto col commissario dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. In quella provincia ci sono comuni come Platì e San Luca, nei quali sono vaccinati solamente il 29% a Platì e il 30% a San Luca. Degli abitanti, ho avvertito il commissario, al primo focolaio in quei comuni istituirò subito la zona rossa. A proposito di regione, vediamo con questo servizio quali sono state le ultime decisioni adottate ieri sera nel corso della seduta di giunta. La giunta regionale ha dato il via libera al bilancio di previsione per gli anni 2022-2024, un documento fondamentale approvato nei tempi previsti che eviterà il ricorso all'esercizio provvisorio e, soprattutto, permetterà alla regione di dotarsi di uno strumento di programmazione finanziaria per attuare le iniziative di governo che saranno intraprese nel prossimo anno. Lo fa sapere il governatore della Calabria Roberto Chiuto. La manovra monta sui 6 miliardi, in linea con quella dello scorso anno. Si tratta, al solito, di un bilancio sostanzialmente tecnico e ingessato, perché in gran parte le risorse avranno una destinazione vincolata e la gran parte delle risorse sarà assorbita dalla sanità. Il bilancio di previsione ora sarà trasmesso al Consiglio regionale per la definitiva approvazione, cosa che dovrebbe avvenire nella seduta programmata per il 22 o il 23 dicembre. La Giunta ha avviato a procedura di liquidazione coatta amministrativa di AFOR nominando commissario Vincenzo Morelli, presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Vibo Valencia e avendo come obiettivo quello di sospendere le circa 25.000 procedure esecutive esistenti, un vero macigno per il bilancio della regione e ridurre così al minimo gli oneri per la nostra amministrazione. La Regione Calabria, spiega poi occhiuto, ha avviato una collaborazione istituzionale con la stazione zoologica Antundorn con il fine di tutelare l'ambiente marino e costiero del nostro territorio. Le attività previste dall'accordo che saranno coordinate dal responsabile scientifico Silvio Greco prevedono l'analisi complessiva delle criticità e l'influenza del sistema depurativo esistente sul territorio regionale. La Giunta ha infine istituito una cabina di regia che avrà l'obiettivo di coordinare le iniziative inerenti il Piano Nazionale di Ripresa e Residenza tra la Regione e gli enti locali. Ancora politica, incontrerà Matteo Salvini a breve, poi prenderà una decisione sul suo futuro politico, a riferirlo all'Agenzia ANSA e la leghista Tilde Minasi, proclamata pochi giorni fa senatrice in sostituzione del seggio rimasto vacante dopo la morte del collega Paolo Saviane Minasi, attualmente assessore alle politiche sociali della Giunta Occhiuto, ma le due cariche ovviamente sono incompatibili. Quindi si è presa qualche giorno per scegliere, dopo aver incontrato il segretario della Lega, che ha giunto, incontrerà di nuovo presto a Roma. L'attribuzione del seggio parlamentare è stata al centro, lo ricorderete, di una diatriba tra la Lega e Fratelli Italia con interventi davvero piccanti anche in aula lo scorso 2 dicembre. Alla fine l'ha spuntata la Lega e quindi Minasi, grazie all'approvazione della relazione della Giunta delle Elezioni e immunità che si era espressa a favore della soluzione leghista. Ed ora un'ampia pagina dedicata alla cronaca, la cronaca giudiziaria torna, anzi ritorna in carcere, l'avvocato Giancarlo Pittelli. Vediamo. Torna in carcere Giancarlo Pittelli, l'ex parlamentare di Forza Italia, avvocato imputato per associazione mafiosa nel processo rinascita Scott era ai domiciliari. Lo ha deciso il Tribunale di Vibo Valencia. All'origine dell'aggravamento della misura, una lettera che Pittelli avrebbe scritto ai primi di ottobre alla Segreteria del Ministro per il Sud, Mara Carfagna, nella quale chiedeva al Ministro aiutami in qualche modo. Lettera che poi, secondo quanto si è appreso, è giunta alla DDA di Catanzaro, che ha chiesto al Tribunale l'aggravamento della misura cautelare per violazione dei domiciliari. Nella lettera Pittelli ripercorre le accuse che gli vengono contestate e manifesta la propria innocenza. L'ex parlamentare si sarebbe rivolto alla Carfagna, sua ex collega di partito, dandone del tu e lasciando il numero di telefono della moglie per eventuali comunicazioni. La Segreteria del Ministro, secondo quanto si è appreso, ha inviato la missiva all'ispettorato di Palazzo Chigi, che a sua volta l'ha trasmessa alla squadra mobile di Catanzaro e da qui è giunta alla Procura di Catanzaro, guidata da Nicola Gratteri. I magistrati, alla luce di quanto accaduto, hanno inviato al Tribunale di Vibo Valencia, che giudica il processo rinascita Scott, una richiesta di aggravamento della misura cautelare. Il Collegio ha accolto la richiesta e ha disposto una nuova misura cautelare in carcere per Pittelli, ritenendo che la vicenda dimostri l'insufficienza degli arresti domiciliari. Pittelli torna in carcere per la terza volta. Per un politico, ex politico, che ritorna in carcere, ce n'è un altro che esce dal carcere. Dopo 28 mesi, infatti, esce dal carcere l'ex consigliere regionale Alessandro Nicolò, arrestato per l'associazione mafiosa nel luglio 2019 nell'ambito dell'operazione Libro Nero, coordinata dalla DDA di Reggio Calabria contro la Cosca Libri. Il Tribunale Regino ha disposto nei suoi confronti l'obbligo di dimora nel Comune con prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 8 di sera alle 8 del mattino, quindi dalle 20 alle 8. Una decisione che tiene conto, è scritto nel provvedimento, delle esigenze terapeutiche, delle residue esigenze cautelari a causa di alcuni problemi di salute. L'ex onzie regionale di Fratelli d'Italia è stato sottoposto in questi mesi ad alcune perizie mediche dalle quali è stata esclusa l'assoluta incompatibilità con il regime carcerario. Alessandro Nicolò è putato perché stando all'inchiesta della DDA Regine è ritenuto il referente politico della Cosca Libri, annoverata tra le cosche storicamente imperanti nel territorio della provincia di Reggio Calabria. Per Marco Gallo, accusato dell'omicidio dell'avvocato di La Mezza Terme Francesco Paiuso, il sostituto procuratore della DDA di Catanzaro ha chiesto la condanna all'ergastolo il penalista lo ricorderete venne ucciso nell'agosto del 2016. Il sostituto procuratore della DDA di Catanzaro Pasquale Mandolfino ha chiesto la condanna all'ergastolo nei confronti di Marco Gallo di 35 anni accusato dell'omicidio dell'avvocato penalista di La Mezza Terme Francesco Pagliuso avvenuto il 9 agosto del 2016. Gallo, secondo l'accusa, è l'esecutore materiale del delitto compiuto per conto della cosca Scalise di Decollatura i cui vertici Pino e Luciano Scalise sono stati condannati all'ergastolo lo scorso 18 giugno. Nel corso dell'udienza Gallo si è sottoposto a esame dichiarando di non essere lui l'omicida di Francesco Pagliuso. Il pubblico ministero ha prodotto una serie di documenti tra i quali la sentenza di condanna nei confronti dei mandanti, il decreto dispositivo del giudizio nei confronti di Marco Gallo con l'accusa di associazione mafiosa nell'ambito del procedimento Reventinum, la sentenza dell'omicidio Mezzatesta che condanna Gallo all'ergastolo, la sentenza dell'omicidio Berlingeri altro ergastolo per Gallo, l'ordinanza dell'omicidio di Domenico Gigliotti che vede Gallo indagato quale esecutore dell'assassinio dell'imprenditore Lametino. L'accusa ha anche prodotto l'annotazione dei carabinieri che hanno rintracciato degli assegni da 7500 euro emessi da Luciano Scalise a favore di Marco Gallo a gennaio 2017. La sentenza da parte della Corte d'Assise di Catanzaro è prevista per il 22 dicembre prossimo. Ancora in cronaca lo scorso 6 dicembre a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone i poliziotti della Questura hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 46enne accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza privata la storia si ripete problemi di convivenza all'interno di una coppia sarebbero degenerati in condotte violente e vessatorie da parte dell'uomo in questo caso esacerbati dall'uso dell'alcol nonché aggravati dal fatto di essere posto in essere di fronte ai figli minori quest'ultimo non era nuovo alle forze dell'ordine scrivono dalla Questura essendo già stato destinatario di ammonimento da parte del Questore non era riuscito però a ravvedersi continuando a maltrattare la compagna convivente con le forme di violenza più svariate dalle minacce agli insulti con epiteti offensivi finendo con calci e pugni la vittima ha trovato il coraggio di reagire denunciando il suo compagno così la Polizia di Stato ha attivato immediatamente la procedura del cosiddetto codice rosso educare alla legalità andiamo al liceo classico Pitagora di Crotone il ruolo del magistrato e dell'avvocato visti dal magistrato e dall'avvocato di questo hanno parlato Giuseppe Capoccia procuratore della Repubblica di Crotone e Caterina Bilotti consigliere dell'ordine degli avvocati tenendo una lezione nell'aula magna del liceo classico Pitagora incontro rivolto agli studenti di alcune classi impegnate nel progetto educare la legalità dai banchi alle aule del diritto quello che ho voluto dire ai ragazzi oggi con grande convinzione è che noi dobbiamo tutti essere consapevoli di essere portatori di valori e che il diritto deve soltanto consentire a tutti di mantenere i propri valori e poterli esprimere forse c'è un'invadenza di diritti che scorda i valori questo mi è sembrato di dover sottolineare cioè spesso un catalogo troppo freddo troppo preciso troppo puntuale sui diritti scorda che i diritti servono a tutelare i valori e se non si è consapevole di quali valori devono essere tutelati dietro i diritti che sono uno strumento di tutela allora si perde il significato dei diritti e tutto diventa un freddo catalogo gli studenti hanno avuto modo di riflettere sui temi della giustizia partendo dalla costituzione sulle varie forme di espressione del diritto e sulla funzione pubblica della magistratura ma anche sulla professione dell'avvocato la dirigente Natascia Senatore abbiamo avviato questo percorso per le competenze trasversali e l'orientamento attraverso la collaborazione dell'ordine degli avvocati e del tribunale di Crotone qui rappresentato al dottor Capoccia che oggi ha offerto ai nostri studenti l'opportunità di avviare proprio con la sua presenza con la sua testimonianza con il valore della sua grande professionalità e supportato dall'avvocatessa Bilotti che ha curato la prima parte di questo incontro proprio a sottolineare questo intreccio tra l'avvocatura e la magistratura Siamo a dicembre ed arrivano le tredicesime tredicesime che tornano a crescere secondo la stima Conf Esercenti sulla base di un monitoraggio SVG dopo il crollo del 2020 quest'anno la montata della mezzanità aggiuntiva dovrebbe arrivare a quasi 44 miliardi di euro oltre 360 milioni in più rispetto allo scorso dicembre ma ancora 1 miliardo e 200 milioni sotto il livello pre-pandemia questa iniezione di liquidità dovrebbe generare una spinta di oltre 20 miliardi per gli acquisti nel periodo delle feste circa 3 miliardi in più rispetto al 2020 8 dicembre dunque partono le festività natalizie e tante iniziative anche in Calabria ieri sera si è iniziato a Fuscaldo vediamo come Buon successo per la manifestazione di vino Fuscaldo apripista della programmazione natalizia che l'amministrazione comunale guidata da Giacomo Midea ha predisposto fino al prossimo 6 gennaio un evento organizzato in collaborazione con la fondazione italiana sommelier che ha visto la partecipazione di ristoranti locali e oltre 20 tra le migliori aziende vitivinicole calabresi apprezzata la musica che ha accompagnato la serata con i nova live music band Giovanni Gatto ed Antonella Zampetta sono stati capaci di riscaldare l'atmosfera di piazza Marconi nonostante le temperature molto molto rigide abbiamo pensato a questa iniziativa proprio perché è nostra intenzione come amministrazione comunale valorizzare quelle che sono le eccellenze locali unite a quelle che sono le eccellenze regionali noi qui in Calabria abbiamo delle aziende vinicole che sono rinomate in tutto il mondo è giusto valorizzarle ed è giusto valorizzare i vini in aggiunta e accanto a quelli che sono i piatti tipici della nostra zona la nostra missione è quella di fare in modo che Fuscaldo possa tornare ad essere quella che era negli anni 60 del secolo scorso la perla del Tirreno Cosentino una meta ambita da turisti da ogni parte d'Italia e del mondo è un luogo conosciuto anche oltreoceano e noi vogliamo tornare a quel tempo e poi c'è la pagina dello spettacolo del nostro Tg andiamo a Cosenza con una rassegna che sta riscuotendo un grande successo stiamo parlando dell'autunno musicale vediamo una serata con Angelo Ruggeri e Giuseppe De Plato flauto e chitarra per un concerto che è stato un appuntamento con la fantasia un appuntamento con la creatività due artisti campani ma soprattutto napoletani nel senso proprio del termine di un'area che ha espresso e continua ad esprimere nell'arte la creatività pura sono stati loro i protagonisti dell'undicesimo appuntamento di autunno musicale la rassegna di musica da camera che si svolge al museo dei bretti e degli anotri a Cosenza ogni sabato fino al 18 dicembre questo duo nasce da una casualità come come succede sempre in questi casi siamo ma anche due didatti e quindi ci siamo conosciuti nell'ambito della didattica un programma fuori dagli schemi e al tempo stesso intrigante quello proposto dai due musicisti con brani di autori napoletani eseguiti da musicisti napoletani che osano fondere l'esotismo con il finto jazz francese ma anche con il Sud America Maximo Diego Pujol questo compositore famosissimo argentino che ci ha donato questi due splendidi gioielli diciamo per ruota e chitarra autunno musicale non è solo concerti la rassegna diretta dal maestro Luigi Santo è anche incontro con gli alunni delle scuole elementari per far conoscere ai più piccoli le emozioni della musica da camera e al contempo visite guidate esclusive per il proprio pubblico al museo archeologico dei bretti e degli enotri con una guida d'eccezione la direttrice del museo Maria Cerzoso più che positivo il consuntivo che traccia il maestro santo quando ormai si avvia all'epilogo la stagione la stagione concertistica internazionale di musica da camera autunno musicale è felicemente arrivata alla ventiduesima edizione e siamo stracontenti strafelici di averla non solo realizzata ma anche di averla realizzata bene per il successo che c'è stato la frequenza del pubblico la partecipazione anzi del pubblico visti i tempi vista la veramente la difficoltà nonostante questo il pubblico ha partecipato e si è emozionato per cui l'appuntamento è all'anno prossimo già la stagione il cartellone chiaramente è già pronto abbiamo già tutto il cartellone pieno le date piene e allora aspettiamo tutto il pubblico sempre al museo civico dei bretti e degli enotri per la stagione concertistica autunno musicale sono state 132.807 le persone controllate dalle forze dell'ordine nel secondo giorno del super green pass di queste oltre 600 sanzionate in relazione al mancato possesso appunto del lascia passare del green pass altre 3.500 persone hanno ricevuto una sanzione perché trovate sprovviste di mascherina per quanto riguarda le attività commerciali sono state oltre 15.000 quelle controllate sul territorio nazionale con 250 sanzioni elevate disposta anche la chiusura provvisoria di 17 esercizi commerciali i dati sono stati diffusi questa mattina dal Viminale quindi dal Ministero dell'Interno ed ora come sempre a cura di 3b meteo le previsioni del tempo per le prossime ore ben trovati in aggiornamento con le previsioni di 3b meteo situazione per la giornata di giovedì quando un minimo depressionario dal nord atlantico sarà ormai in viaggio verso le nostre regioni del centro sud sospinto da venti forti tempestosi e freddi di maestrale e tramontana andiamo a vedere quello che succederà in termini di precipitazioni perché al mattino si attarderanno di fenomeni nevosi a quote molto basse sul nord est tra Emilia Romagna e Venezia miglioramento invece al nord ovest dopo le nevicate in pianura mentre al centro sud piogge rovesci sparsi con neve lungo l'appennino centro meridionale a quote di bassa montagna per venti freddi di maestrale nel dettaglio quindi una giornata ancora instabile al centro sud con piogge rovesci temporali specie sul basso tirreno venti forti qui da nord e nord ovest con mari agitati o molto agitati dei fenomeni anche sul medio basso adriatico per il nord est ultime precipitazioni con neve a quote bassi mattinata poi migliora osservate anche al nord ovest deciso miglioramento in giornata con delle aperture del cielo ma poi nella notte successiva arriveranno le nebbie dettagli maggiori li trovate scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo non cambiate canale se volete restate sul 18 una piccola pausa pubblicitaria e oggi subito dopo appunto la pubblicità e ritorno all'appuntamento con Smart Sport la friscia quotidiana dedicata allo sport a cura di Luigi Saporito per quanto riguarda il TG ci vediamo questa sera alle 20 e 30 buon prossimamente di giornata e soprattutto a tutti voi una serena festa dell'Immacolata a tutti